Lo so che sono passate parecchie settimane dal rilascio delle ultime tre puntate di Mandalorian, ovvero la sesta, la settima e l'ottava. Non vi preoccupate, l'ho vista anche io e adesso in questo video inizierò a parlarvi della sesta puntata, che è stata ovviamente la prima ad essere stata rilasciata. Per prima cosa mi è piaciuto tantissimo che ci abbiano fatto rivedere finalmente dopo tanto tempo i drolli di separatisti che non vedevamo dalla stagione 2 di Bad Batch. E se vogliamo parlare di una scena di cui non ci ho visto completamente il senso è stata proprio quella scena iniziale in cui ci sono quel Mon Calamari e quell'Aqualish che elettronamente stanno per baciarsi e non ci ho visto completamente il senso, anzi aveva iniziato anche a farmi schifo. Mi è piaciuta in particolar modo l'ambientazione del pianeta in cui vanno Mando e Bo-Katan che ci hanno mostrato. E ho apprezzato anche il fatto che Bo-Katan e Mando abbiano mostrato il loro codice a catena in una scena che era una via referenza all'armatura di Boba Fett, cosa che ovviamente hanno tutti i Mandaloriani. D'altra parte non ci ho visto per niente il senso della scena in cui vanno dal tizio interpretato da Jack Black e da sua moglie e tutta quella cena che si era presentata. L'ho semplicemente trovata più che altro cringe e fuori contesto. Mi è piaciuto tantissimo che ci abbiano mostrato finalmente Christopher Lloyd in questa puntata che ovviamente è l'interprete di Doc Brown, il personaggio di Ritorno al Futuro, la cui comparsa era stata già liccata mesi fa prima dell'inizio della stagione. Non mi aspettavo assolutamente che sarebbero tornati gli Ugnug, che sappiamo esattamente che uno dei loro membri della specie era comparso inizialmente nella prima stagione che era diventato amico di Mando. E so che molti fanno hanno scherzato sulla somiglianza di questo Ugnug con questo personaggio che compare nel film Pixar di Incredibili. E non so voi ma la scena in cui il droide B2 scappava velocemente da Mando e da Bokatan mi ha ricordato esattamente la stessa scena che era avvenuta nel film Io Robot con Will Smith, in cui lui insegue un androide ribelle. Mi è piaciuta tutta la questione che girava attorno all'indagine che hanno fatto Bokatan e Mando. E parlando della scena in cui vanno a incontrare tutti quei droidi in quel bar in cui sono ammessi solo i droidi, e la frase che dice il droide bartender in cui dice che la sua paura e la paura di tutti i droidi è quella di essere sostituiti dagli esseri umani, mi ha fatto pensare che è esattamente un parallelismo azzeccato per i tempi che stiamo vivendo, dato che ormai si parla soltanto di sostituzione degli esseri umani con le intelligenze artificiali, che però in questo caso viene fatto in Star Wars, ma invertendo i ruoli. Alla fine i due protagonisti scoprivano che letteralmente il cattivo di tutta la puntata era proprio il personaggio interpretato da Christopher Lloyd, che si rivela appunto essere un separatista. E inizia ad inneggiare al nome di Duku, ma viene fermato poco prima che possa dire che il Conte Duku era stato ucciso da Anakin. In seguito Bokatan e Mando si dirigono dalla squadra di mandaloriani che erano approdati sullo stesso pianeta e che avevano aiutato Bokatan nella stagione precedente. Dopo un casino in cui io non ci ho capito niente di pugni, cazzotti e calci vari che si sono dati Bokatan e quel tizio di cui non ricordo il nome, Mando se ne esce con un'affermazione che sinceramente mi ha fatto andare abbastanza in confusione. Secondo questa sua affermazione, essendo stato catturato da quel mostro che stava su Mandalore ed essendo stato salvato da Bokatan, è tecnicamente adesso lei la vera sovrana di Mandalore, cosa che tecnicamente tutti quanti ci aspettavamo che sarebbe successo prima o poi, dato che lei aveva già impugnato la Darksaber. E secondo questa logica è come se il mostro che aveva catturato Mando l'avesse sconfitto in duello e avesse preso la Darksaber senza toccarla effettivamente e che dopo fosse stata ripresa da Bokatan che l'ha sconfitto in duello. Una logica abbastanza confusionaria che mi è sembrata sinceramente molto forzata per spiegare che Bokatan deve ritornare a governare i Mandaloriani. Così Mando dà di nuovo la Darksaber alla sua legittima proprietaria ed ritorna finalmente ad essere di proprietà di Bokatan. Che dire, è stata una puntata che non mi ha dispiaciuto abbastanza, dato che ci hanno fatto rivedere ancora per una volta i droidi separatisti e tutta l'azione che c'è stata nell'indagine. Ma la logica della spiegazione finale che è stata data al perché Bokatan deve riprendersi per forza la Darksaber, dato che è stata effettivamente la legittima proprietaria già un tempo, mi è sembrata veramente troppo confusionaria e secondo me non seguiva veramente una vira logica, ma semplicemente mi ha dato in confusione a me e non so se mi ha dato in confusione altri fan.